La matematica dà spesso dei problemi. Per questo Texas Instruments aiutata dagli insegnanti ha creato la TI 30 Galaxy. Per avere la matematica in pugno, un nuovo modo per calcolare. Tasti più larghi, un esclusivo display che indica le operazioni in sospeso, 66 funzioni, un pratico manuale. È talmente facile da usare, non accontentarti di una calcolatrice qualsiasi. Tieni la matematica in pugno. Scegli la TI 30 Galaxy Texas Instruments. Grazie.